Siamo con Di Maria del Sigillo, si conclude con una vittoria 2-0, una partita molto equilibrata decisa dagli episodi, che partita è stata? Bella partita, anche gli avversari ci è piaciuta, una bella partita, era tanto che non facciamo una partita così perché eravamo tutti in campo, i giocatori erano la maggior parte quelli titolari, siamo riusciti a fare una delle nostre partite, poi complimenti anche all'avversario perché è stato tosto, è stato un bel avversario. Alla prossima, vediamo se il prossimo anno, vediamo di concentrarci in aiuto, questo torneo che è stato un bel torneo. Complimenti per la prestazione, complimenti per il torneo e grazie. Grazie a voi.